Gentili telespettatori, buona giornata. Alle elezioni comunali 2023 pochissime persone stanno andando a votare. Oggi si vota fino alle 15, però è lunedì lavorativo, andrà qualcuno a votare ma non ci sarà ovviamente la ressa. Diciamo o meglio affermiamo che l'affluenza alle 23 di ieri sera, il dato del Viminale, è di 46,36%, in forte calo addirittura di 13% in meno, di un 13% in meno rispetto all'ultima tornata elettorale precedente che era del 59,36, quindi 46,36, 59,36, 13% in meno, che è un risultato tremendo. Ecco, anche se va ricordato che allora si votava solo la domenica, mentre stavolta i cittadini dei 595 comuni chiamati a decidere chi sarà il sindaco che li governerà, possono approfittare dei seggi dalle 7 alle 15. Poi cominceranno gli scrutini e andremo a vedere con un'affluenza più o meno alla metà degli aventi diritto. Gli aventi diritto erano quasi 5 milioni, quindi vuol dire che stanno andando a votare 2 milioni e mezzo, quindi a stensione la metà. All'esito guarderanno innanzitutto i cittadini, a parte quelli coinvolti nei comuni, ma anche quelli che stanno nelle poltrone romane per capire i rispettivi partiti come si stanno muovendo. Ci sono oggi, di questi comuni che vanno al voto, 8 capoluoghi, espressione del centro-destra, che sono Vicenza, Sondrio, Treviso, Imperia, Massa, Pisa, Siena e Terni, e 5 del centro-sinistra, Brescia, Ancona, Latina, Teramo e Brindisi. Ecco, tutto andrà a basarsi su questi 8 più 5 capoluoghi, per cercare di capire se il centro-destra riuscirà a prenderli tutti, oppure il centro-sinistra manterrà i suoi 5, oppure il centro-sinistra riuscirà a recuperare tipo Siena, Pisa, che sono nella regione rossa, Pisa e Siena sono nella regione rossa, se riusciranno a essere recuperati. Quindi se la Meloni, il centro-destra, riuscirà a recuperare altri del centro-sinistra, vorrà dire che il centro-destra è ancora più amato delle elezioni di fine anno scorso, oppure che la Schlein sta recuperando terreno, eccetera, eccetera. Ecco, diciamo che la sfida principale è su questi 13 capoluoghi di provincia, anche se voi sapete che le province non esistono più, però vengono chiamati ancora i capoluoghi di provincia. Bene, poi non ci addentriamo nei singoli comuni piccoli, per esempio ad Ancona ci sarà una forte battaglia, Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia vogliono strappare il comune alla coalizione avversaria che lo ha governato negli ultimi dieci anni con Valeria Mancinelli del PD e che ora sostiene Ida Simonella. La sfida è affidata al forzista Daniele Silvestri e poi c'è la lotta anche a Brescia, a Vicenza. Da tenere d'occhio anche i risultati, come vi dicevo prima, che usciranno dalle urne di Siena e Pisa, due realtà storicamente governate dalla sinistra, nella regione rossa. Ecco, nella città del Palio il centrodestra non ha confermato il sindaco uscente Luigi De Mossi e ha preferito puntare su Nicoletta Fabio. Il centrosinistra lì ha deciso a sua volta di affidarsi a un volto femminile, quello di Anna Ferretti del PD. A Pisa, una delle poche piazze in cui Edem e Cinque Stelle sono riuscite a trovare un accordo, il fronte giallorosto è rappresentato da Paolo Martinelli, a cui tocca il compito di strappare la poltrona al sindaco uscente, Michele Conti. Ma ciascuno, a suo modo, anche le partite di Sondrio, Treviso, Massa, Terni, Brindisi e Latina meritano attenzione, come la piccola imperia dove resta in pista per una riconferma l'ex ministro dell'interno Claudio Scaiola. Ecco, questo è il preludio di quello che succederà con l'assenteismo, chiamiamolo così. Attenzione perché in gran parte d'Europa, alle elezioni politiche che siano nazionali, regionali o comunali, l'astensione è sempre stata molto alta. Diciamo che l'Italia era un po' un unicum dove l'astensione era al di sotto del 50%, ma diciamo che l'Italia sta diventando un po' come gli altri paesi. Quindi il fenomeno dell'assenteismo alle elezioni ci sta portando in linea con gli altri paesi europei. Vedremo quello che succederà. Ecco, gli italiani sono sempre più disamorati dalla politica perché hanno visto una cosa molto semplice. Promesse, 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 ti fanno una capatanta prima del voto, tu vai lì convinto che poi succederà questo e quell'altro e ti trovi che ti hanno preso bellamente in giro. Una volta che raggiungono il potere, che sia il sindaco, che sia il presidente di regione, quando raggiungono il potere, in alcuni posti si dice quando raggiungono il potere non ti conosco più. Come dire, tu mi servi come giornalista, tu mi servi come conduttore televisivo, tu mi servi come industriale, come politico, tu mi servi fino a quando raggiungo il potere e dopo non ti conosco più. Come dire, prima ti facevo credere di essere un mio amico, di essere una persona importante per la riuscita delle elezioni, poi una volta che ho raggiunto il potere non ti conosco più. Come dire, tu gli telefoni, tu gli parli, gli scrivi e non ti rispondono più. Perché una volta ho ottenuto il potere, arrivederci senza neanche grazie. Quelli sono quelli che hanno sostenuto le campagne elettorali. Mentre il povero elettore sconosciuto che è andato lì con la sua matitina a scrivere Tizio Caio di quel partito, pensando che veramente poi sarebbero andati a mantenere quella promessa lì che ci tieni tanto. Arrivederci senza neanche grazie, ma neanche arrivederci. Purtroppo funziona così. E gli italiani lo hanno capito ormai perfettamente. Si va ormai a votare il meno peggio. Quello che ti prende in giro forse meno. Quando qualcuno dice hai visto che ti ha preso in giro? Sì, ma questo è il meno peggio. È sempre meglio degli altri. Ecco, diciamo che l'elettore preso in giro ti viene a dire sì, vabbè, ma è sempre meglio degli altri, no? È meglio degli altri. Quindi combinerà tutto quello che combina, ma è meglio degli altri. Ecco, oggi siamo a è meglio degli altri. Magra consolazione. Arrivederci a tutti e grazie. 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 Grazie.